Questo fotogramma lo immortala negli istanti immediatamente precedenti alla fuga dal carcere di Borgo San Nicola, poi di lui nessuna traccia. Proseguono a tutto campo le ricerche di Vito Gassi, 29 anni, originario di Trigiano, che nel pomeriggio di sabato è riuscito ad evadere dalla casa circondariale di Lecce, dove era detenuto per rapina a mano armata. I droni nell'escursione hanno sorvolato l'Interland di Parabita con un corposo dispiegamento di pattugli a terra. Qui qualcuno aveva segnalato di aver visto il fuggitivo per le vie del paese in compagnia di altri due uomini. Segnalazione che ad ora però non ha trovato riscontro. A quanto si apprende il 29enne, dopo essere evaso dal reparto di osservazione psichiatrica scavalcando le inferiate lungo il perimetro dell'area circondariale, avrebbe dapprima guadagnato la fuga a piedi, per poi rubare una bicicletta, raggiungere la stazione di Lecce e acquistare un biglietto per Casarano. Durante questo tragitto è stato ripreso da una telecamera all'altezza di un rondò. Potrebbe essere sceso dal treno prima di arrivare alla fermata finale. Ecco perché la segnalazione di avvistamento a Parabita è apparsa credibile, facendo attivare carabinieri, volanti, polizia locale e penitenziaria, che hanno circondato e scandagliato tutto il paese. Ricerche, si diceva, al momento senza esito. Definito un soggetto ribelle, gli inquirenti tendono ad escludere che abbia contatti nell'Interland. L'ipotesi è che, raggiungendo il Sud Salento, il 29enne abbia voluto depistare le ricerche per prendere tempo e pianificare i prossimi step di fuga. Un'evasione storica dal penitenziario leccese, da che senza precedenti. Le ricerche continueranno a tutto campo, così come nella casa circondariale sono in corso le verifiche su eventuali negligenze e responsabilità a monte dell'evasione.